Ciao a tutti, in questo video parlo dei taccuini proposti dalla Peter Popa Press, scritto Peter Pauper, molto belli per la loro copertina, che in alcuni casi richiama delle pregiate rilegature artistiche del passato. Peter Popa Press è una casa editrice fondata nel 1928 da Peter Bailenson, con l'intento dichiarato di proporre libri di qualità ad un prezzo che anche i poveri, appunto Popa, avrebbero potuto permettersi. Ad oggi è ancora gestione familiare, con sede nella zona di White Plains, nello stato di New York, Stati Uniti d'America. Nel suo ampio catalogo prevede alcuni libri, ma soprattutto prodotti di cancelleria e i taccuini di cui vado a parlare nel presente video. Alcune caratteristiche comuni, prendo ad esempio questo qui che è l'Obsidian, hanno una carta senza acidi, da 120 grammi al metro quadro, adatta per penne di varia tipologia e matite. Sono in questo caso 160 pagine, ma i formati più grandi ne hanno 192, i modelli quelli di dimensioni maggiori, l'elegante copertina con decorazioni colorate e o in rilievo con elementi con riflessi metallici. Spesso il bordo delle pagine è dorato, come vediamo qui in questo caso, ma anche altri modelli presentano questo bordo dorato che ha questi riflessi molto eleganti, sinceramente. La rigatura è leggera, non fastidiosa, non invadente, non è una rigatura che si vede poi tantissimo. In questo caso poi c'è anche un elemento decorativo qui in alto e il segnalibro al nastro è presente in quasi tutti i modelli. Vediamo un po' qui il segnalibro, ovviamente cambia colore a seconda del modello, questo è nero, hanno i risguardi di colore dorato quasi tutti e la riliegatura è in brossura cucita. Un'apertura piatta a 180 gradi, non perfetta ma abbastanza buona. Magari si va un pochino a invitare, ecco qui che rimane abbastanza piatto e ci si può scrivere senza problemi. Andiamo ora a descrivere proprio questo modello. Questa è una riliegatura del XVII secolo con decorazioni dorate. In realtà è forse quello che mi piace di meno. Le dimensioni sono 16x21 cm, l'ho pagato però soltanto 6,56€. Poi qui sotto nel box informazioni del video vi metto tutti i link, io li ho presi praticamente tutti quanti su Amazon, magari vi metto un link unico per poterli acquistare se pensate che vi possano piacere e volete comprarli. Questo qui ripeto è l'Obsidian, il disegno mi piace un po' rispetto agli altri perché sembra quasi grossolano e questa parte nera che dovrebbe ricalcare della pelle in realtà si vede insomma che è una stampa, però tutto sommato è un volume abbastanza interessante. Proseguiamo con il Celestial Journal che è questo qui, questo che riproduce un disegno con decorazioni dorate, anche in questo caso le parti dorate sono in rilievo, che è creato dalla legatoria Henry T. Wood di Londra nel 1933. È disponibile in due versioni, quella classica che è questa qui, sono circa 16x21 cm, pagato poco più di 14€, poi abbiamo quella più piccolina di circa 13x18 cm, che viene di listino 9,99$, io l'ho preso in offertissima, spesso su Amazon questi si trovano, non solo questo modello ma anche gli altri della Peter Popper Press, si trovano dei prezzi in offerta con costi bassissimi, l'ho pagato soltanto 4,30€, davvero bassissimo. Poi proseguiamo con quello che forse è il mio preferito, il Cosmology Journal, questo qui ha il dorso, non l'ho fatto vedere, anche qui ci sono delle stelle, il pianeta con l'anello, e lo Saturno ovviamente qui nella parte alta e anche in quella bassa. Il Cosmology Journal è il mio preferito, la copertina è una riproduzione di un Atlante catalano risalente addirittura al 1375, viene attribuito al maestro cartografo Abraham Cresc di Mallorca in Spagna. La copertina presenta al centro la Terra impersonificata da un astronomo, poi dei cerchi concentrici che rappresentano i quattro elementi, poi abbiamo sette pianeti, che sono questi qui, se riesco a farveli vedere magari più in dettaglio, questa parte qua rappresenta i sette pianeti, conosciuti allora, perché allora comunque se ne conoscevano soltanto sette, poi abbiamo i segni zodiacali, sono quest'altro qui, in questo cerchio più grande, poi le fasi lunari, anche tutte queste cose io sto toccando sono in rilievo molto belle, le fasi lunari e agli angoli, qui abbiamo le quattro stagioni, qui negli angoli della copertina, ovviamente come sul fronte la stessa viene, questo è il dorso, la stessa viene riportata anche sul retro, anzi qui vi posso anche far vedere che ogni volume ha una etichetta. Proseguiamo con il Traveller's Journal, qui la Peter Popa la chiama Voyager Notebook, questa qui invece sono i quadernini di ricambio, ne ho parlato dettagliatamente, vi rimando al video in cui parlo dei Traveller's Notebook economici, questo viene soltanto 10,50€ ed è ben fatto, e i ricambi due quadernini sono 3,90€. Lo Universe Journal, di dimensioni standard, 16x21, riproduzione della copertina di una enciclopedia delle scienze di un naturalista francese, pubblicata a Londra nel 1870. Sono 160 pagine a righe, la copertina al centro c'è una rappresentazione di latitudine e longitudine, il prezzo è 12,99€ di listino, su Amazon attualmente, così l'ho pagato anch'io, sono 14,70€, ma a volte va in offerta e viene venduto anche a un paio di euro in meno. questo vediamo anche qui l'elemento acqua, vegetali, animali, minerali, questo quindi è il regno della Terra, acqua, aria e fuoco. Molto bello, anche questa qui è tutta in rilievo, l'ho lasciato nella sua bustina, questa è importante perché arrivano con questa bustina protettiva che evita che si rovinino durante il viaggio. Proseguiamo con altri volumi, questo è il Morocco Journal, le dimensioni sono più grandi, come il cosmologico che abbiamo visto prima, 18,4 x 22,8 cm, 192 pagine, la copertina riproduce una rilegatura francese del XIX secolo realizzata con pelle marocchina, da qui anche il titolo Morocco Journal. Ne decorazioni floreali, il volume è originale, conteneva il biblico Cantico dei Cantici. Questo, effettivamente, anche queste parti sono in rilievo e questa rappresenta una sorta di pelle di colore blu. Questo qui che vedete è il dorso, non so se si riesce a mettere a fuoco, e qui sul retro anche viene riportato lo stesso disegno. Questo, allora, il prezzo non so che dire perché sinceramente sul listino, sul sito ufficiale della Peter Popper Press non lo trovo più, quindi non so, forse è fuori produzione e forse proprio per questo motivo l'ho trovato in offertissima, anche questo su Amazon, l'ho pagato soltanto 3,98 euro, quindi per 4 euro un volume di queste dimensioni con queste finiture è stato un regalo, davvero. Andiamo con questo qui che è il Old World Journal. tra quelli che ho è l'unico con una chiusura magnetica. Vedete, si apre in questo modo, queste sono le pagine all'interno, peraltro ci sono anche delle citazioni su alcune pagine e una decorazione nella parte alta. Queste sono sempre citazioni che riguardano comunque i viaggi, essendo un volume, un taccuino dedicato ai viaggi. questa è l'apertura magnetica e i risguardi anche in questo caso di colore dorato. Sulla copertina c'è una rappresentazione di un'antica mappa del mondo con i continenti e altri elementi in rilievo molto pregevole, devo dire che è davvero piacevole come copertina. Il dorso in questo caso è l'unico con il dorso semplice così di colore rosso, l'etichetta che può essere ovviamente rimossa e anche sul retro prosegue la mappa, anzi viene riportata esattamente quella che c'è nella parte anteriore. Questo qui sono 160 pagine, 16x21, il prezzo di listino è 14,99$ e si trova online comunque su Amazon anche questo a 10,77€ attualmente, questo è il prezzo attuale. Proseguiamo con il Jeweld Filigree Journal questo è solo che sporca la bustina esterna ma assolutamente il volume è perfetto e replica una copertina creata a Londra nel 1905 originariamente con veri gioielli e foglia d'oro 16x21 cm il prezzo qui di poco meno di 10€ lo si può trovare anche questo su Amazon anche queste parti sono in rilievo il disegno è abbastanza dettagliato sul dorso come vedete c'è una riproduzione floreale e qui anche sul retro lo stesso disegno andiamo ancora avanti con il bordeaux togliamo questo di mezzo questo è il bordeaux journal anche questo di dimensioni maggiori sono larghe grandi sono 18,4x22,8 cm 192 pagine a righe la copertina riproduce quella di un breviario romano della chiesa cattolica creato in Francia nel 1556 l'elemento centrale questa parte qui ve lo faccio vedere un po' più in dettaglio questo elemento centrale era molto in voga tra i libri di quel periodo il prezzo è di 12,80€ circa di listino mi pare che venga a 15,99$ anche queste parti sono ovviamente in rilievo questo qui è il dorso come si può vedere con queste raffigurazioni decorative sostanzialmente molto molto bello e arriviamo infine come ultimo volume al persian groove questo ha una copertina che riproduce quella di un volume del XVI secolo contenente poesie persiane l'originale copertina venne realizzata con una pittura laccata fogli d'oro e polvere di perle infatti anche qui anche se è solo una stampa viene riprodotta queste parti con delle bellissime sfumature a colori lo sfondo è nero sono alberi animali uccelli e qui abbiamo una decorazione diciamo standard molto carina molto elegante anche sul dorso e lo stesso disegno replicato sulla parte posteriore questo è il persian groove sono 160 pagine 16x21 cm formato standard di listino 12,99 e l'ho pagato si trova su amazon mi pare a 12 euro poco più di 12 euro ora vediamo in dettaglio alcuni aspetti di questi prodotti le mie personali opinioni e un confronto con i taccuini a marchio paperblanks perché effettivamente assomigliano molto come tipologia di volumi a quelli delle paperblanks allora la prima cosa possiamo dire è che quali copertine sono migliori beh questo prendiamo un esempio questo è un paperblanks beh io sinceramente allora credo che sia sostanzialmente una questione di gusti non c'è un qualcosa che sia assolutamente meglio degli altri poi dipende anche dal dal volume semplicemente ogni azienda sceglie quale elemento pubblicare quale elemento mettere sulle proprie copertine e quindi ognuno sceglie in base a quello che poi gli piace per quanto riguarda la finitura dei disegni io ho trovato che i paperblanks forse è un pochino questo è un paperblanks è un pochino più definita più dettagliata però questo dipende dai volumi per esempio anche questo qua il cosmology ha una rifinitura eccezionale qualcuno invece mi ha un pochettino un po' deluso come ho fatto vedere l'obsidian questo qui è il celestial dove magari il disegno appare un po' meno preciso ma è invece più preciso nell'edizione più piccolina però sostanzialmente comunque sono ottime copertine quelle di entrambe le case poi la scelta è del tutto personale poi paperblanks ha una grande scelta di modelli eh sì quindi questo disegno magari può essere utilizzato su taccuini con diciamo grandi oppure quelli midi questo qua è un midi quelli mini quelli ultra quelli slanciati e così via poi ci sono anche le rigature dove paperblanks effettivamente offre una buona scelta e magari lo stesso disegno per la copertina all'interno possiamo scegliere le varie pagine a puntini oppure a righe o completamente bianche quindi possiamo personalizzare sinceramente non so a me non dispiace anche il discorso che fa invece Peter Popper io vi faccio un'edizione questa consideratela come una sorta di opera d'arte c'è un codice ISBN come se fosse un libro è pubblicato in questo modo quindi non vi do la possibilità di sceglierlo con le varie tipologie di carta e ripeto non dispiace perché mi dà anche quel senso di unicità che invece con paperblanks è un po' dispersivo che posso scegliere effettivamente tantissimi formati e anche diverse tipologie di carta quindi ha un numero abbastanza elevato di combinazioni ora vediamo la qualità della carta e a tal proposito prendiamo innanzitutto qui dove ho fatto delle prove andiamo un po' su una di queste ultime pagine che ho fatto una prova di scrittura in alto delle penne stilografiche questa è una carta come abbiamo detto da 120 grammi al metro quadro devo dire che non ci sono evidenti fenomeni di spiumaggio quindi si comporta abbastanza bene anche con le penne stilografiche e queste sono penne insomma classica sfera BIC quindi con inchiostro a base oleosa delle penne gel ma anche fine liner e una brush pen e la matita quindi vediamo un pochettino insomma devo dire che va bene è piacevole abbastanza sicuramente molto liscia piacevole la scrittura e come vedete non ci sono sbavature in superficie vediamo sul retro sul retro devo dire che praticamente è passato qualcosino soltanto sulla stud perché genera una diciamo mette sul foglio una grande quantità di inchiostro e ovviamente il marker perché il marker buga insomma un po' tutte le carte quindi lo uso proprio come prova per vedere che si tratti di normale carta e non di un modello di quelli sintetici la resa dei colori non è magari eccezionale qui è piuttosto piatto non si vedono particolari sfumature adesso andiamo un po' a metterlo a confronto invece con questo della paper blanks vediamo che c'è effettivamente qualche differenza allora innanzitutto paper blanks stessa cosa non ci sono fenomeni di spiumaggio si comporta abbastanza bene però questa qui ha delle sfumature in più quindi una resa di colore migliore ma questo vi interessa maggiormente soltanto se usate inchiostri particolari o punte molto grandi per cui può essere piacevole effettivamente vedere delle sfumature per il resto il comportamento è lo stesso vediamo qui sul retro sul retro anche in questo caso è passato un pochino soltanto la stub e il marker però vorrei far notare una differenza allora il retro di questa non so se si riesce a vedere bene in camera nonostante siano entrambe anche questa da 120 grammi al metro quadro nonostante siano entrambe carte con diciamo una grammatura abbastanza elevata questa presenta però una maggiore opacità è quindi difficile andare a vedere quanto è stato scritto nella parte nell'altra parte del foglio questa qui invece devo dire che si intravede di più ecco questa cosa effettivamente a qualcuno potrebbe dar fastidio devo dire che la carta paper blanks che poi ha questa qui da 120 sui modelli già dal midi in poi sui modelli mini invece ha una carta più leggera 85 grammi però questa qui ha una maggiore opacità e si vede meno quello che è scritto sull'altro lato del foglio quindi secondo me è un punto a favore di paper blanks in questo caso però se usate delle normali penne a sfera o penne gel devo dire che il problema sostanzialmente non sussiste poi la confezione come ho detto paper blanks viene venduto così quindi senza nessuna protezione infatti un paio di volumi mi sono arrivati un po' rovinati uno un po' toccato qui su un punto e un altro con una leggera riga perché durante il trasporto può capitare questi invece godono di un'ottima protezione grazie a questa bustina infine parlando un po' di prezzi i Peter Popper hanno un costo a parità di modello di dimensioni hanno un costo generalmente un po' più basso anzi in alcuni casi anche parecchio più basso soprattutto andando a sfruttare delle offerte questi hanno anche questi si possono trovare in offerta ma hanno delle variazioni di prezzo comunque minori bene arriviamo alle conclusioni io credo che i volumi della Peter Popper siano davvero carini esteticamente siano belli per se stessi e per farne un regalo sono venduti a dei prezzi abbastanza convenienti e li reputo sostanzialmente validi questa è la cosa più importante io spero di essere stato utile con questo video che vi sia piaciuto in tal caso potete mettere un mi piace per me sarebbe molto importante e se volete rimanere aggiornati sulle prossime uscite del canale vi invito ad iscrivervi a questo punto vi saluto ciao a tutti arrivederci a presto a presto a presto a presto